Una catena umana lungo la riva della spiaggia dei Baresi, pane pomodoro, per sollecitare il comune a risolvere una volta per tutte l'annoso problema della condotta sottomarina di via Matteotti che, quando piove, riversa in acqua di tutto, tra liquami e altro, impedendo l'accesso in mare. In centinaia uomini, donne, bambini, armati anche di cartelli, si sono stretti per un'iniziativa voluta di domenica, quando la spiaggia è affollata di bagnanti. Con la soluzione siamo in alto mare e questa stagione estiva trascorrerà senza risposte certe. Ai ritardi nella giudicazione della gara non ci stanno gli aderenti all'associazione pane pomodoro, tornati pacificamente a protestare dopo un mese per chiedere che i lavori partano. Vogliamo che vengano accelerate tutte le procedure per la realizzazione della condotta sottomarina che deve portare lo sversamento di via Matteotti lontano, a largo del mare. Il problema è che il progetto ancora non c'è, sono in corso verifiche sui vincitori dell'offerta a causa dei ribassi troppo eccessivi, fino all'80%. Otto mesi sono, per escluderne una sola, ce ne sono altre due o tre da escludere, che significa? Fa due anni? Perché questo ritardo? E poi, qui ci sono dei danni ambientali che vengono arrecati ogni qualvolta la fogna va in acqua. C'era il centrosinistra e c'è il centrosinistra. Non ci sono attenuanti, devono accelerare per risolvere il problema. Alla fine irrompete le righe, tutti in acqua, finché si può. Grazie. Grazie.